Oltre alla larghezza e all'altezza, per ogni immagine raster è possibile considerare una terza dimensione, definita profondità di colore o di bit. La profondità di colore può essere definita come la memoria che il calcolatore utilizza per rappresentare il colore di ogni singolo pixel. Essa esprime in altri termini la capacità cromatica dell'immagine. Proviamo a spiegare meglio questo concetto. Queste tre immagini sono a prima vista del tutto analoghe. Provando tuttavia a tracciare con una pennellata rossa un segno sopra di esse, vedremo che il risultato sarà molto dissimile. Nel primo caso, la pennellata rossa è divenuta un segno nero, avvicinandosi molto all'immagine. È possibile effettivamente vedere come tutti i pixel che compongono l'immagine siano colorati unicamente di bianco o di nero. Questo è dovuto al fatto che si tratta di un'immagine la cui profondità di bit è molto bassa. In questo caso, la profondità è di un bit. Come è noto in informatica, il bit è l'unità di base ed equivale sostanzialmente a due possibilità. Zero e uno. Acceso, spento. In questo caso, queste due possibilità si traducono in due colori, bianco e nero. Proviamo a fare due calcoli. Abbiamo detto, un bit equivale a due possibilità. Acceso e spento. E quindi, due colori. Se anziché un bit, all'immagine fossero stati destinati due bit, le possibilità sarebbero state di più. Ovvero, sarebbero state due alla seconda. Quattro colori. Nel caso in cui, invece, l'immagine avesse avuto una profondità di tre bit, le possibilità sarebbero state due alla terza. Ovvero, otto colori. Generalmente, le immagini che utilizziamo nelle attività più comuni, o quelle che troviamo su internet, ad esempio, sono immagini la cui profondità di bit è di 8 bit. Equivalenti, quindi, a due alla ottava differenti possibilità, ovvero 256 toni. E questa è, infatti, la profondità di bit delle altre due immagini. Proviamo ad avvicinarci sulla seconda immagine, dove la pennellata rossa si è tradotta in un segno grigio. Qui notiamo, effettivamente, che i pixel hanno differenti tonalità. In particolare, tutti i pixel sono colorati di differenti tonalità di grigio. Proviamo adesso ad aprire una finestra molto utile nell'analisi dell'immagine. La finestra dell'istogramma, che è raggiungibile sia dal menu Colors Info, Istogramma, che dal menu Windows Docable Dialogues, Istogramma. In questa finestra è possibile avere una rappresentazione statistica dei pixel presenti nell'immagine. Si tratta di un grafico cartesiano, in cui, alle ascisse, sono rappresentati tutti i valori tonali, appunto, in questo caso, da 0 a 255, quindi i 256 valori poc'anzi descritti. Attraverso questo grafico è possibile avere una lettura generale, ma anche puntuale, o per zone, a colpo d'occhio, dei pixel e dei toni cromatici, dei valori cromatici presenti nell'immagine. Ed è anche grazie alla lettura che questo grafico consente, che sarà possibile definire le strategie e le azioni di elaborazione di editing da operare sull'immagine. Passiamo alla terza immagine. Anche in questo caso abbiamo un'immagine a 8 bit. In questo caso, tuttavia, le 256 variazioni che questa profondità consente, sono utilizzate per definire l'intensità con cui i tre colori primari, rosso, verde e blu, che compongono la luce, contribuiscono alla definizione del colore. Queste mappe di intensità sono descritte nei canali dell'immagine. Per capire meglio questo concetto, però, apriamo una nuova immagine. e scomponiamo questa immagine nelle componenti che appunto sono rappresentate dai canali. Per farlo, utilizziamo il comando Colors, Component, Decompose. Verrà creata una nuova immagine in cui i tre canali saranno disposti su tre differenti layer. Com'è possibile osservare? Disattivando, spegnendo i vari layer, i canali assomigliano a delle versioni in bianco e nero della stessa immagine, dell'immagine a colori. Tuttavia, vanno lette piuttosto come delle mappe di intensità, appunto che descrivono quanto sia presente l'una o l'altra componente nella produzione dell'immagine finale. In questo caso, il bianco corrisponde alla massima presenza, mentre il nero corrisponde all'assenza di quella specifica componente. Esaminando i singoli layer, effettivamente verificheremo come, ad esempio, il canale rosso sia presente in tutte le parti bianche dell'immagine e nelle parti rosse o gialle, essendo il giallo composizione del verde e del rosso. Allo stesso modo, spegnendo questo layer e visualizzando quindi il layer verde, vedremo come questo sarà più presente nelle parti chiare, sarà presente sicuramente nella parte del prato, sarà presente nelle fasce gialle e verdi, mentre sarà assente, ad esempio, nella fascia rossa. Analizzando invece il componente blu, quindi il canale blu, vedremo come questo sarà prevalente rispetto agli altri, soprattutto nella descrizione del cielo, che ovviamente, essendo azzurro, ha in questo colore il principale contribuente. Grazie. 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 Grazie.